Possiamo spiegare agli ascoltatori il motivo della tua visita Ma niente, ho vinto un concorso e mi hanno detto scegliete un programma che ti vuoi piacere Hai scritto questa lettera accorata Ma che accorata? Sono venuto qua a fare un giretto a Roma, a Londra, a Roma Adesso c'è un po' di crisi nella calzatura, ho molti giorni liberi La crisi nella calzatura Seta, dall'accento mi sembra di capire che lei viene dalle Marche Sì, sì, sono dell'Uporto, Porto San Del Perio Diciamo, mi chiamo Beppo e... E dov'è stato a Pasqua? Ma sono stato a Londra Fatalità! Ho scritto una canzoncina, diciamo così, per raccontare questa mia avventura Ah, ho capito Dopo se vuoi ne parliamo meglio Ma è stato da solo o in compagnia? Con una famiglia di amici, uno che faceva il cantante Adesso ha smesso, si chiama Gianluca Bellavarba Però penso che ha capito Gianluca Bellavarba Lei ha scritto una canzone su questa esperienza Sì, sì Sentiamola Senta, lo sa che le dice parecchio culo? Perché... No, voglio dire Non so se si rende conto da chi è accompagnato Tommy Emanuele Do di battaglia e la social media Tommy Emanuele Do di battaglia Che vuole più? No, sì, sì Mi basta bene, dai Va bene Allora com'è La tonalità è questa, sì Va bene Festa Pasqua con i mogli e con i frighi Tutti a Londra siamo ieri Sbaragniamo sull'agnello e meglio un te Ci imbarchiamo su Ryanair Che imbarazzo Che imbarazzo La metro qua la chiama underground La chiama Niente euro C'è voli pound Quattro paste, due caffè per colazione Mi sono giocato la liquidazione Pasqua a Londra Faccio Pasqua a Londra Un marchigiano su Londra, amici Pasqua a Londra Quando è cara a Londra Era meglio gli da zio Luigi Come il garden arrozza Hai te parco Hai te Tutto il giorno a camminare Un martedì piedi Un mio C'ho una voglia di olive alla scolana Con sto freddo da tramondana Aia Non dove ho mangiaste i fish and chips Aia C'ho bisogno di un WC Che può essere anche l'ugesto E' pagna il suo, ma sì Nel bagno non ci sta Ma con un bidet Come fare la bassa St'english man Qua guida a sinistra Per traversare la strada Rischi degli sembra l'ospedale Vero questo Se voglio allo stadio C'ho una milionata Devi dico a chi me l'ha fatto fare Dodi Bagna un po' da solo Dai Ma pure Ma come si permette Ma come si permette Che confidenza Ancora, ancora Aspetta un po' Dobbi 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 Ma che fa Pezzetto Comanda lui Comanda lui È bravo pure questo Ma c'è Ecco che Ancora Dobbi Pezzetto Dai Se fosse salvi Dobbi 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 Pasqua Londra S'ho fatto Pasqua Londra Nelle marche S'ho venuto qua Pasqua Londra Quante cara Londra Era meglio Montegrana Montegrana Era meglio Gli Amundura Era meglio Gli Ampilotra Il signor Peppu Accompagnato Tommy Emanuele Did you ever play before For Mr. Peppu? Grazie It's the best time It was the greatest experience of my life Quanta esperienza Questa Contaminazione